Da Caserta a Napoli, tutto il territorio della campagna è interessato in misura più o meno grave dagli ecoreati, dagli incendi agli sversamenti abusivi, le discariche, l'utilizzo di sostanze chimiche dannose. Per dotarsi di uno strumento di indagine e prevenzione più efficace, questa mattina in procura a Napoli sono stati sottoscritti gli accordi di collaborazione in tema di tutela ambientale. L'intesa, che prevede l'impiego congiunto degli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli e delle Polizie Provinciali di Avellino, Benevento e Caserta, ha coinvolto il sindaco della città metropolitana, Gaetano Manfredi, i presidenti delle province di Avellino, Benevento e Caserta e i procuratori presso i tribunali competenti. Siamo in una regione in cui purtroppo il territorio è stuprato, dal fiume Sarno, fiume più inquinato d'Europa, ad un abusivismo che supera il 64%, che è una percentuale spaventosa. Tutto ciò che sapete è accaduto e purtroppo in parte accade ancora, soprattutto nella provincia di Caserta, per quanto riguarda i rifiuti. Abbiamo ottenuto già dei risultati e continueremo su questa strada. Uno degli accordi riguarda solo l'area metropolitana di Napoli, che prevede il rafforzamento della cooperazione tra il corpo di Piazza Matteotti e le procure del territorio. Toleranza zero contro chi avvelena la terra, contro le speculazioni che ci sono, ma anche i comportamenti incivili che spesso sono legati a delle abitudini che noi dobbiamo in tutti i modi reprimere. Questo rappresenta un passo in avanti fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche la civiltà e la legalità della nostra regione.